Alla fine del XII secolo, tre potenti leader cristiani, Federico Barbarossa, imperatore di Germania, Filippo II, re di Francia, e Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, sospesero le loro ostilità per il dominio dell'Europa e si impegnarono in un viaggio verso la Terra Santa per affrontare la Terza Crociata. Il loro obiettivo comune era confrontarsi con Saladino, il sultano di origine kurda che, in pochi anni, aveva fondato un vasto impero islamico nel vicino Oriente e che, il 2 ottobre 1187, aveva conquistato Gerusalemme. Attraverso una serie di rapide campagne, Saladino aveva ridotto i territori cristiani a una sottile striscia costiera situata fra l'attuale Libano e Israele. Il sultano era riuscito a infiammare lo spirito guerriero dei musulmani, combinando la sua ambizione di riconquistare i territori in mano ai cristiani con l'idea che questa fosse una missione ordinata dal Divino. La sua straordinaria abilità militare e la sua personalità carismatica lasciarono un'impronta indelebile nei suoi contemporanei, specialmente fra gli avversari cristiani. Nonostante i massacri da lui perpetrati, la sua generosità e i suoi atti di cavalleria lo trasformarono in un eroe leggendario. Saladino, nato con il nome di Salah al-Din Yusuf Ibn Ayyub nel 1138 a Tikrit, proveniva da una famiglia con una solida tradizione militare. Pur essendo destinato al governo, ricevette un'educazione sia letteraria che militare, sebbene fosse più incline verso quest'ultima. La sua ascesa al potere fu agevolata dalla crescente crisi che affliggeva il califfato. Dopo il periodo iniziale seguito alla morte di Mahometto nel 632, durante il quale si susseguirono le dinastie Omayyade e Abbasside, con il trasferimento della capitale da Damasco a Bagdad, l'espansione musulmana aveva raggiunto vaste regioni dall'Asia centrale alla Spagna meridionale. Tuttavia, il vasto territorio portò alla frammentazione del potere, con piccole dinastie di emiri che, pur riconoscendo una sorta di autorità centrale, agivano con crescente autonomia. Nel 1127, Imad al-Din Zenghi salì al potere in Siria, fondatore della dinastia Zenghide, distinguendosi come il primo comandante arabo nella lotta contro i cristiani. Suo figlio, Nur al-Din, che governava dal 1146, aspirava a creare un'unione politica e religiosa nel mondo islamico, ritenendo di essere l'erede legittimo del profeta Mahometto come musulmano sunnita ortodosso. Per consolidare il suo potere, impiegò la guerra santa, il jihad, che richiedeva a ogni musulmano di difendere la propria fede con le armi. Nur al-Din rivolse la sua attenzione contro il califato Fatimide d'Egitto, una dinastia sciita sorta nel X secolo e discendente da Fatima, figlia di Mahometto. Nel decennio del 1160, Nur al-Din estese la sua influenza in Egitto, inviando truppe sotto il pretesto di difendere il califato Fatimide dagli attacchi nemici. È in questo contesto che Saladino si distinse per la prima volta, giungendo in Egitto con lo zio Shirku su ordine di Nur al-Din. Dopo la morte di Shirku, che aveva acquisito la carica di Gran Vizir d'Egitto, nel 1169 Saladino prese il suo posto. Due anni dopo, alla morte del califo Al-Adid nel 1171, Saladino salì al trono, ponendo fine alla dinastia Fatimide e autoproclamandosi sultano d'Egitto. Questo spostamento di potere destò preoccupazione in Nur al-Din, ma la sua morte nel 1174 non fermò l'ascesa di Saladino. Lasciò come erede suo figlio undicenne, Assali, del quale Saladino si proclamò tutore. Nei dieci anni successivi, Saladino si dedicò alla conquista della Siria e della Mesopotamia, consolidando gradualmente il suo dominio su tutto il vicino Oriente. L'improvvisa morte di Assali li permise di concentrare ancora più potere nelle sue mani. La conquista di Aleppo nel 1183, una fortezza che aveva a lungo sostenuto la dinastia di Nur al-Din, rafforzò definitivamente la sua autorità. Come sovrano, Saladino si impegnò a consolidare l'unità religiosa, secondo i principi dell'ortodossia sunnita, al fine di evitare divisioni e conflitti interni. Per questo scopo promosse attivamente la creazione di numerose madrase, istituzioni islamiche di istruzione superiore dove venivano formati i futuri leader. In queste madrase l'ortodossia sunnita era strenuamente difesa e promossa. Tuttavia questo fervore religioso portò inevitabilmente a uno scontro diretto con il principale nemico dell'Islam nel vicino oriente. Il cristianesimo. Le prime due crociate, avvenute nel 1095 e nel 1145, avevano permesso ai cristiani di conquistare territori vicino a Gerusalemme, nelle odierne Siria e Palestina, dando luogo alla riconquista della città santa e alla creazione di piccoli domini feudali distribuiti fra i più importanti cavalieri crociati. Saladino, per garantirsi il potere, si trovava quindi nella necessità di sconfiggere i crociati, poiché affrontava anche rivali interni, come dimostravano vari tentativi di avvelenamento e attentati organizzati dagli assassini, una setta sciita nota per l'uso rituale di hashish. La guerra santa contro i cristiani, proclamata da Saladino, serviva non solo a rafforzare il proprio potere, ma anche a unire tutti i fedeli sotto la sua guida come sultano dell'Islam e dei musulmani, come egli stesso si definì a partire dal 1184. Saladino sfruttò abilmente le lotte di potere fra i cristiani nei territori conquistati, come il regno di Gerusalemme, la contea di Tripoli in Libano e il principato di Antiochia, oltre alla debolezza dell'alleanza fra bizantini e cattolici romani. Alcuni crociati, specialmente quelli appena arrivati in terra santa, sostenevano la necessità di continuare la guerra contro i musulmani per preservare lo spirito delle crociate, mentre altri, come il conte di Tripoli Raimondo III, con cui Saladino aveva stipulato una tregua, preferivano una convivenza pacifica per motivi economici, avendo bisogno della mano d'opera musulmana per coltivare le loro terre. Nel 1185, la morte di re Baldovino IV, il Lebroso, causò una crisi dinastica nel regno di Gerusalemme, già indebolito dagli attacchi continui di Saladino, il quale era stato sconfitto solo una volta nel 1177 a Mongisar, presso Ascalona. In quella battaglia, il principe di Antiochia, Rinaldo di Chatillon, si distinse come il principale nemico del sultano, un vero e proprio predatore che non esitava a commettere atrocità contro i nemici e che spesso violava le tregue fra Baldovino IV e Saladino. Nel 1186, Rinaldo attaccò una carovana diretta alla Mecca e rifiutò di liberare i prigionieri e restituire il bottino, nonostante il nuovo re di Gerusalemme, Guido di Lusignano glielo avesse chiesto. Questo comportamento portò Saladino a considerare rotta la tregua in vigore dall'anno precedente fra cristiani e musulmani e quindi a riunire le sue truppe per attaccare il regno di Gerusalemme. Nel 1187, Guido di Lusignano lanciò una grande offensiva contro Saladino vicino a Tiberiade, ma il sultano riuscì a circondare l'esercito cristiano e inflisse loro una schiacciante sconfitta ad Attin il 4 luglio. Dopo la vittoria, Saladino permise a Raimondo di Tripoli di fuggire con i suoi uomini, ma chiese un pesante riscatto per gli altri cavalieri prigionieri, inclusi Guido e Rinaldo di Châtillon. Quest'ultimo, catturato anch'esso, fu giustiziato personalmente da Saladino, come il sultano aveva promesso dopo l'incursione del crociato contro i pellegrini diretti alla Mecca. Da quel momento in poi Saladino conquistò tutte le piazze forti più importanti dei crociati, comprese San Giovanni d'Acri, Ascalona, Iaffa e Beirut. L'ultima tappa di questa avanzata era Gerusalemme, città sacra per entrambe le fedi. Fra i cristiani della città santa vi erano due fazioni ben distinte. I cristiani ortodossi, che riconoscevano l'autorità del Patriarca di Costantinopoli e i seguaci del Papa di Roma. Mentre i primi erano disposti a consegnare la città in cambio della promessa di mantenere intatto il culto cristiano, i cattolici si opposero fermamente. Il 20 settembre 1187 Saladino pose l'assedio a Gerusalemme. Poiché i cristiani non disponevano delle truppe necessarie per difendere la città, il 2 ottobre furono costretti ad aprire le porte. In questa circostanza Saladino si dimostrò sorprendentemente clemente nei confronti dei cristiani, permettendo loro di lasciare la città e organizzando il loro trasferimento in Europa. Si dice addirittura che abbia pagato di tasca propria il costo del loro imbarco, richiesto dai cristiani stessi che erano privi di mezzi. Con la conquista di Gerusalemme, Saladino aveva dato all'Occidente il pretesto atteso per lanciare la terza crociata, indetta da Papa Clemente III. A partire dal 1189, le forze francesi e inglesi cominciarono a convergere sulle coste della Terra Santa. In ottobre, un potente esercito al comando dell'imperatore del Sacro Romano Impero, Federico Barbarossa, raggiunse Costantinopoli via terra. Tuttavia, durante la successiva marcia verso Gerusalemme, nella Cilicia, Turchia sudorientale, nell'estate del 1190, il settantenne Barbarossa annegò nel fiume Salef per un collasso improvviso e le sue truppe si dispersero. Nell'aprile del 1191, gli eserciti del re Filippo Augusto II di Francia arrivarono e assediarono San Giovanni d'Acri, mentre all'inizio di giugno arrivò il re d'Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone. I rapporti fra i due monarchi europei furono tesi. Sebbene fossero uniti nel difendere la fede cristiana e nell'obbedire al papa, avevano interessi contrapposti. Il re francese soffriva molto per il clima e le sue frequenti malattie. Dopo aver finalmente conquistato San Giovanni d'Acri nel luglio del 1191, considerò compiuta la sua missione e tornò in Francia senza il suo esercito. Riccardo, invece, condusse un'offensiva inizialmente vittoriosa contro le posizioni di Saladino lungo la costa palestinese. Nel 1192 avanzò su Ascalona e minacciò Gerusalemme. Il re inglese era in qualche modo affascinato da Saladino, la cui fama aveva raggiunto persino l'Inghilterra. Fin dall'inizio desiderò avere un colloquio con il sultano per raggiungere un accordo. Pertanto, vedendo che non sarebbe riuscito a riconquistare Gerusalemme con la forza, propose persino di dare in sposa sua sorella Giovanna, vedova del re di Sicilia Guglielmo II, il Buono, a un fratello di Saladino, Aladil, offrendo loro terre e città lungo la costa. Il futuro sposo considerò positivamente l'idea di un matrimonio con una principessa inglese e Saladino, sebbene inizialmente scettico, accettò l'accordo. Ma, alla fine, Riccardo comunicò che sua sorella si rifiutava di sposare un musulmano. Riccardo non riuscì a raggiungere un accordo con Saladino né attraverso la forza né attraverso la diplomazia. Le personalità e le politiche dei due avversari erano profondamente divergenti. Il re inglese perseguiva la vittoria a qualsiasi costo, senza esitare di fronte a misure estreme, come il massacro di 3.000 prigionieri musulmani ad Acre. Saladino, d'altra parte, non era estraneo alla violenza, come dimostra l'esecuzione dei 200 cavalieri templari e ospitalieri catturati ad Attin. Il sultano, però, preferiva fare affidamento sulla clemenza e sulla diplomazia come le sue armi principali. Durante i negoziati, Riccardo cercò di ottenere Gerusalemme, ma Saladino rifiutò categoricamente. «La città santa è tanto vostra quanto nostra», replicò. Nonostante ciò, acconsentì al pellegrinaggio dei cristiani nei luoghi santi. Riccardo I desiderava ardentemente tornare in Inghilterra, e così nel settembre del 1192 fu stipulata una tregua triennale. Secondo i termini dell'accordo, i crociati avrebbero mantenuto il controllo della fascia costiera fra Tiro e Giaffa, ma avrebbero rinunciato alla riconquista di Gerusalemme. Saladino non poté godere a lungo del suo successo. Morì solo sei mesi dopo la firma della tregua, il 2 marzo 1193 a Damasco, circondato dai suoi numerosi figli, dalla sua unica figlia, dalle mogli e dai suoi seguaci. Pur avendo 55 anni, i continui acciacchi avevano prematuramente segnato il suo volto. Negli ultimi tempi era solito trascorrere del tempo in compagnia di Mosè Maimonide, il filosofo e medico ebreo Andaluso, giunto da Cordova. Il vasto territorio, che un tempo era sotto il suo controllo, estendendosi dal fiume Eufrate fino al Sudan, venne diviso fra i suoi figli e nipoti, che proseguirono la dinastia Iubide da lui fondata. Nell'Occidente cristiano, i cavalieri che erano tornati dalla crociata senza essere riusciti a conquistare Gerusalemme, diffusero numerose storie crudeli su Saladino, da qui l'epiteto feroce con cui è conosciuto in Europa, per giustificare la loro sconfitta. Tuttavia, col passare del tempo, l'immagine del sultano si trasformò anche in Europa, da guerriero invincibile a un modello di spirito cavalleresco. Persino Dante lo definì come un grande spirito non toccato da Dio, contribuendo a consolidare il suo mito nel corso dei secoli.